Sindaco Claudio De Miglio, Palena torna ad accogliere il Pescara per questo raduno della stagione 21-22, tutto pronto? È tutto pronto, è una bellissima gioia avere qua di nuovo il Pescara, soprattutto in virtù della bellissima vittoria della nazionale che ci ha fatto gioire con gli europei, quindi ripartire è una ripartenza di tutta la nazione e anche di Palena, quindi il Pescara-Palena sì, una bella ripartenza, tutto pronto, speriamo che le cose saranno veramente per il meglio per il Pescara che ne ha proprio bisogno. Ecco, lo scorso anno a causa Covid il Pescara non è stato a Palena e non è andata bene, possiamo dire che Palena potrebbe tornare a forzare bene come è successo negli anni passati? Noi ce la mettiamo tutta e mi auguro che anche la sorte e il destino faccia lo stesso, il calcio è un gioco quindi purtroppo ci può stare anche la sconfitta, speriamo che questo non accada e sia veramente buon auspicio affinché il Pescara vada veramente avanti perché una regione abruzza ha bisogno di una squadra importante come il Pescara, quantomeno in serie B. Cosa significa avere nuovamente il Pescara nel suo comune? Significa avere movimento, significa far sì che gli alberghi, i ristoranti, i bar, tabaccheri e quant'altro finalmente rivedano un po' di movimento in questo, come dicevo poco fa, pericolo, questo periodo di pandemia così brutto che abbiamo vissuto tutti. Ecco nel frattempo Palena ha anche conquistato la bandiera arancione che mi sembra sia un importante traguardo per una località come questa. Siamo uno di quei comuni che l'ha mantenuta per ulteriori anni fino al 2023, tanto è vero che futuristicamente avremo anche una bella manifestazione sulle bandiere arancione. La bandiera arancione vuol dire tutto, vuol dire avere accoglienza, vuol dire avere turismo, vuol dire avere un'ottima raccolta differenziata, vuol dire una serie di fattori, ma soprattutto grazie ai cittadini che permettono di avere questo borgo così bello e pulito. Come vanno le cose qui nel comprensorio? Siamo nel mezzo della stagione estiva, lei prima parlava di ripartenza proprio legando questo periodo all'arrivo del Pescara, ma come vanno le cose? C'è stata fortunatamente una buona ripresa. Anche noi abbiamo vissuto come cittadini un periodo particolare come ha vissuto tutta la nazione. Fortunatamente ne approfitto di fare un appello al vaccino. Il vaccino è veramente importante, il vaccino aiuta tanto fisicamente e psicologicamente. Questo significa vivere in tranquillità e in piena libertà la propria vita e riprenderci i propri spazi.